Il congiuntivo ha quattro tempi, presente, passato, imperfetto e trapassato. Si usa soprattutto nelle preposizioni dipendenti quando il predicato esprime un'opinione o un'incertezza. Una speranza o augurio o una volontà. Un timore o un dubbio. Anche si usa dopo alcune espressioni. Espressioni impersonali e espressioni che indicano uno stato d'animo. Dopo alcune locuzioni e espressioni. Impio si usa dopo alcune congiunzioni, come nonostante o malgrado. Quando si inverte l'ordine delle preposizioni. Anche dopo il grado superlativo relativo. Il congiuntivo presente si usa dopo una frase principale con un verbo all'indicativo presente o futuro e all'imperativo per esprimere un'azione contemporanea a quella della frase principale. Il congiuntivo passato si usa dopo una frase principale con un verbo all'indicativo presente o futuro e all'imperativo per esprimere un'azione anteriore a quella della frase principale. Il congiuntivo imperfetto si usa quando il verbo principale è al passato o al condizionale. Il congiuntivo trapassato si usa quando il verbo principale è al passato o al condizionale. Il congiuntivo è al passato o al condizionale. Grazie a tutti.